Per il leader Udc, Pier Ferdinando Casini, l'uscita dalla consulta della famiglia, del comune, delle associazioni cattoliche a Bologna è un fatto triste, un fatto di cui il sindaco Merola dovrebbe preoccuparsi. La manovra a Monti è dolorosa. Tenere alta la guardia non basta più contro le infiltrazioni mafiosi. In Emilia Romagna serve uno scatto in avanti delle istituzioni e un atteggiamento nuovo. Corriamo il rischio di essere colonizzati dalla malavita organizzata. Si è intensificata la lotta della polizia contro le infiltrazioni mafiose, sempre più preoccupanti anche nel territorio emiliano-romagnolo. Nell'ultimo anno sgominate organizzazioni importanti, bilancio positivo della polizia. In dieci hanno tentato la fuga dal centro identificazione ed espulsione immigrati di Via Mattei a Bologna. Quattro ci sono riusciti all'ennesimo episodio per bloccare i fuggitivi, intervenuto anche l'esercito. Inaugurata questa mattina la mostra dei presepi a Palazzo Caprara, sede della prefettura di Bologna, alla presenza del cardinale Carlo Caffarra, in esposizione rappresentazioni della natività provenienti da tutta Italia. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con quest'edizione serale del nostro telegiornale. Manovra dolorosa ma necessaria e folle votare contro il governo. Così si è espresso il leader nazionale dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, intervenuto alla festa del Natale che si è tenuta a Villa Pallavicini di Bologna. Casini non ha risparmiato giudizi critici su alcune scelte dell'amministrazione Merola, ma è andato per noi Gabriele Sciarra. Sentiamo. La manovra del governo Monti non ci soddisfa perché comporta grandi sacrifici per gli italiani, ma l'Udc la sostiene perché l'unico modo per salvare i risparmi dei cittadini è per evitare che il paese vada in bancarotta. Chi pensa alle elezioni anticipate o è pazzo o è irresponsabile. Senza questa manovra il paese finirebbe nel baratro e chi ha votato contro per populismo e demagogia, come hanno fatto Lega e Di Pietristi, non possono assumersi questa responsabilità. Così è intervenuto il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, oggi a Bologna in occasione del pranzo di Natale del partito. Poi davanti alla platea ha aggiunto il terzo polo, oggi è al 18-19% e al termine della legislatura le alleanze non saranno più le stesse, l'Udc ha quindi la responsabilità di diventare un partito di riferimento con l'obiettivo di creare una forza popolare, moderna e in grado di guidare il paese. Prima dell'ingresso in sala il leader dell'Udc si era fermato con i cronisti, gli è stato chiesto un giudizio sul prossimo Gay Pride che si terrà a Bologna. Ho tanti amici omosessuali, francamente credo sia una condizione che merita totale rispetto da parte di tutti, non mi piace l'esibizionismo e questo è il punto. Un altro tema sul quale è stato chiesto un parere è quello sull'uscita dalla consulta delle famiglie del comune di Bologna di 12 associazioni cattoliche. Beh è un fatto molto triste questo, molto preoccupante, se io fossi il sindaco di Bologna di questo fatto mi preoccuperei molto perché un sindaco che non rappresenta anche la grande identità cristiana di questa città chiaramente qualche problema lo crea ma dovrebbe crearlo a se stesso più che gli cittadini. Arrivederci. Grazie, grazie. E nell'occasione il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, ha fatto anche gli auguri a tutti i bolognesi per le festività natalizie. Casini, siamo alla vigilia delle feste, cosa vuole augurare ai bolognesi? Beh tanta serenità, è l'unica cosa che si può augurare quest'anno, c'è tanta gente che soffre, che fa fatica e io penso che proprio per questo non può essere un Natale di ostentazione o solo così di feste nel senso tradizionale del termine. Che sia anche un Natale di solidarietà, Bologna è una città solidale, forte, che sa essere capace di dare agli altri. Questo è quello che mi auguro. Tutti noi prima di tutto, è nelle nostre coscienze, è un monito rivolgo a me stesso prima di tutto. E chiudiamo la pagina dedicata alla visita di Pier Ferdinando Casini. Passiamo alla cronaca, in dieci hanno tentato la fuga, in quattro sono riusciti ad evadere dal CIE di Bologna. Si tratta di tre tunisini e di un algerino che sono passati dal tetto, hanno scavalcato le ricinzioni su via Mattei e hanno fatto perdere le loro tracce. Gli altri sei invece sono stati bloccati da carabinieri, polizie e militari dell'esercito intervenuti per riportare la calma. È successo ieri verso le 22, un marocchino portato nella saletta medica è stato arrestato per resistenza. Nell'ultimo periodo, nella struttura di identificazione ed espulsione bolognese, c'erano già stati episodi di rivolte e proteste da parte degli extracomunitari. E cambiamo argomento. Si è parlato del pericolo dell'infiltrazione mafiosa in Emilia Romagna, nel convegno che si è svolto questa mattina in Consiglio regionale. È stato presentato un rapporto dell'Associazione Libera Informazione, fondata da Danciotti, che fa il punto sull'argomento per ciò che riguarda la nostra regione. C'è da dire che preoccupa visibilmente il fenomeno dell'usura cresciuto negli ultimi anni. Il punto nel servizio di Marco Rossi. C'è il panorama dettagliato delle famiglie mafiose presenti in Emilia Romagna e la ricostruzione delle principali indagini e risultati raggiunti dagli inquirenti. Ma ci sono anche dei numeri e alcune voci che arrivano direttamente dai territori. C'è tutto questo dentro il corposo dossier sulle mafie in Emilia Romagna, che è stato realizzato da Libera Informazione su input dell'Assemblea Legislativa e presentato in Viale Aldomoro con un convegno ad hoc alla presenza di ospiti del calibro di Anna Canepa, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia, e Roberto Alfonso, procuratore capo di Bologna. Presente anche il fondatore di Libera, Don Ciotti. Il dossier si intitola «Mafie senza confini, noi senza paura» e si apre con un'introduzione di Matteo Richetti, presidente del Consiglio regionale, secondo il quale la criminalità organizzata, anche quando si presenta in modo indiretto, va guardata in faccia, affrontata a viso aperto, accantonando il timore che, ammettendo il pericolo, si possa minare la reputazione delle nostre città o della nostra regione. Al contrario, aggiunge Richetti, al manifestarsi dei primi sintomi è bene intervenire decisamente. La descrizione del panorama delle famiglie mafiose presenti in regione prende in considerazione tutte le province, anche se i territori più colpiti sono Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma. Una prova della preoccupazione crescente nei confronti dell'Emilia Romagna sta anche nell'arrivo a Bologna nel 2010 di due ex procuratori aggiunti della Direzione Nazionale Antimafia, entrambi per anni gomito a gomito con Piero Grasso, Alfonso appunto nominato procuratore capo, ed Emilio Ledonne andato alla Procura Generale. Anche grazie a loro le forze dell'Ordine e della Magistratura fino ad oggi sono state in grado di contrastare il lento ma progressivo contagio della regione, ancora lontano però dal fenomeno di colonizzazione presente ad esempio in Lombardia. Nel dossier trovano spazio anche i fenomeni di estorsione e usura, quest'ultima più pericolosa per la nostra regione. Se il pizzo infatti coinvolge circa 2.000 commercianti, solo il 5% del totale, contro il 70% della Sicilia o il 50% della Calabria, più preoccupanti sono i dati relativi all'usura, che riguarda 8.500 persone, pari all'8,6% del totale dei commercianti attivi. Altri dati significativi sono i 107 beni confiscati alla mafia in regione, al top c'è Bologna, con 38 immobili. Infine nel dossier di Libera c'è un capitolo dedicato alle buone prassi, dalla legge antimafia varata dalla regione, fino al patto per la legalità sottoscritto da alcune camere di commercio. Del pericolo delle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio, nel territorio emiliano-romagnone, ha parlato anche il capo della squadra mobile, Fabio Bernardi, che ha lodato anche l'azione delle forze dell'ordine che quest'anno hanno particolarmente contrastato il fenomeno delle infiltrazioni mafiose. Vediamo l'intervista. Noi come squadra mobile possiamo dire che grazie al questore di Bologna e grazie anche alla Procura di Repubblica abbiamo svolto alcune indagini di altissimo livello, di livello nazionale. Ricordo soltanto quella, ad esempio, contro l'esponente del clan Mancuso, quindi criminalità organizzata, e lì siamo riusciti ad arrestare persone per riciclaggio e abbiamo sequestrato beni sul territorio di Bologna, beni destinati, gestiti da esponenti mafiosi e siamo riusciti inoltre a arrestare esponenti di questo clan mafioso che aveva infiltrazioni sul tessuto bolognese per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Qui si parlava di 1.500 pilli di cocaina che dovevano far arrivare dall'Equador. Abbiamo avuto altre operazioni, esempio quella recentemente conclusa contro il traffico di chetamina e anche qui abbiamo analizzato circa 30 persone, quindi di attività investigative ne abbiamo concluso e quest'anno è stato particolarmente fortunato. Noi puntiamo molto a disarticolare i gruppi criminali, le organizzazioni criminali perché è così che incidi in maniera significativa sulle stesse, sequestrano nel contempo i beni in loro possesso. E ci scusiamo per l'inconveniente tecnico, andiamo avanti con il nostro telegiornale. Cronaca due pugni, uno al naso, l'altro al labbro, al giovane amico della ex compagna. Una 35enne bolognese che come altre volte lui aspettava sotto casa, non riuscendo a rassegnarsi all'idea della fine del rapporto e a non vedere più il figlio nato dalla relazione. Ieri sera a Bologna un tunisino di 30 anni, irregolare, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di stalking, lesioni, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento. Lo straniero è stato rintracciato dagli agenti dopo che aveva provato ad entrare in casa con lei ieri verso le 21.45 in via Torino, alla periferia di Bologna. La donna era rientrata in auto con due amici, un ragazzo ed una ragazza di 21 anni. La donna aveva più volte esporto denuncia contro l'ex compagno per violenza privata a partire dal febbraio del 2008. Portato in questura, l'uomo ha poi insultato e spintonato i poliziotti. Si è svolto ieri un convegno per fare il punto sul progetto Guida la Notte, che è partito nel settembre del 2010 e rivolto alla prevenzione di alcol e droga per i giovani. Coinvolti gli studenti delle scuole medie e superiori della città che hanno voluto contribuire a questo progetto realizzando un video. Andiamola a vedere insieme. Nelle discoteche ci sono le paste, la chetamina, la cocaina. Chi ha la patente, prende la macchina e non beve, chi non ce la beve e si diverte. E' il video forte e intenso realizzato da un gruppo di studenti fra i 2600 coinvolti nel progetto Guida la Notte coordinato dal Comune di Bologna e coadiuvato dall'Ausl, dall'Università e dalla Questura. Protagonisti gli stessi ragazzi delle scuole superiori, alle prese con test innovativi contro alcol e droga, attività di coinvolgimento nelle scuole, interventi nei locali notturni e posti di blocco della polizia. Tutto per dire no a ecstasy, energy drink, cocaina, allucenogeni, chetamina, anfetamina e ad altri stupefacenti che oggi passano nei locali e fra le mani dei ragazzi. Ieri il convegno dal titolo Ti porto via con me è stata l'occasione per fare il punto con i coordinatori e con circa 200 giovani delle scuole. E così è emerso che da settembre 2010 a luglio 2011 sono stati 36 gli interventi di prevenzione nei locali della città, anche nel corso di concerti ed eventi musicali, 51 le azioni di primo soccorso e 1500 le persone fermate e naturalmente informate del progetto. Numeri eccellenti ma soprattutto significativi che costituiscono un primo passo sopra il lancio di una campagna di comunicazione per la prevenzione rivolta ai giovani e veicolata dai locali della notte. Basta con il razzismo istituzionale. Questo è il messaggio su alcuni cartelli sventolati in piazza Nettuno a Bologna, dove come in altre città questa mattina si è tenuto un presidio della comunità senegalese legato all'agguato di Firenze. Più di 100 tra stranieri italiani davanti all'ingresso di Palazzo Renzo, noi a Scandito Senebasir, uno dei portavoce della comunità e tra gli organizzatori delle manifestazioni dei migranti, siamo italiani, non ci consideriamo cittadini di serie B. No alla legge Bossi Fini e no al reato di clandestinità, gli altri slogan. È fondamentale essere vicini oggi a questa comunità per testimoniare il netto rifiuto verso la violenza, il razzismo e l'intolleranza, nemici mortali della democrazia, scritto in una nota Andrea De Maria, responsabile nazionale PD, nuove forme di organizzazione e comunicazione politica, che ha preso parte all'iniziativa bolognese. Ed ora parliamo di economia, perché le imprese che hanno resistito meglio ai venti della crisi sono quelle che in questi ultimi anni sono riuscite a espandersi e a conquistare i mercati esteri. Lo sa bene la CNA che a questo scopo ha dato vita a ben 5 consorzi che di recente hanno festeggiato i 30 anni di vita. Vediamo il servizio di Gabriele Sciarra. CAAT, Camster, Cermac, CUAS e Modern Italy sono i 5 consorzi della CNA per l'export che l'altra sera hanno festeggiato i primi 30 anni di attività. Grazie a questi consorzi, dall'81 ad oggi, 200 medie e piccole imprese hanno potuto fare il grande salto dal mercato locale a quello globale. Oggi, pur in presenza di una crisi economica, il fatturato estero di queste aziende ha raggiunto mediamente il 40% con punte del 95%. È un dato molto significativo se si considera che la media di fatturato estero delle piccole e medie imprese si attesta tra il 3 e il 4%. I principali mercati che assorbono prodotti dei consorzi sono l'Europa, l'Estremo Oriente, la Federazione Russa, gli Stati Uniti, l'America Latina e il Medio Oriente. Un salto dovuto anche alla partecipazione a mille eventi fieristici in ogni angolo del pianeta e a 300 progetti di internazionalizzazione. Le sfide dei mercati globali oggi sono ancora più difficili, ma i cinque consorzi stanno tuttora portando avanti i progetti innovativi che coniugano l'analisi aziendale strategica alla visione consortile e guardano non solo agli aspetti legati alla promozione ma cercano di avere una visione integrata di tutte le questioni legate alla produzione, alla commercializzazione, alla logistica, alla ricerca e sviluppo fino ai servizi post vendita. Anche quest'anno, in occasione del Natale, è stata inaugurata in Prefettura un'esposizione di presepi. Al taglio del nastro erano presenti le autorità civili, militari e religiose della città. E' andato per noi Giuseppe Piloni. E' stato il Cardinale Carlo Caffarra a tagliare il nastro della mostra intitolata la tradizione presepiale in Italia, inaugurata a Palazzo Caprara, sede della Prefettura. Anche quest'anno, in occasione del Natale, il Prefetto Angelo Tranfaglia ha voluto presentare visitatori un'esposizione di presepi realizzati da artisti del passato e da maestri contemporanei. L'Arcivescovo di Bologna, Carlo Caffarra, ha sottolineato l'importanza del presepe e ne ha ricordato la storia con il primo che fu opera di San Francesco d'Assisi. Il Prefetto Tranfaglia ha spiegato che quest'anno sono state esposte opere di tutte le regioni d'Italia. Quest'anno anche abbiamo inteso continuare quelle iniziative che abbiamo avviato lo scorso anno. Lo scorso anno la mostra dei presepi di Palazzo Caprara era la mostra che si rivolgeva alla tradizione bolognese-napoletana. Quest'anno anche in coerenza, in armonia, in sintonia con il centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, abbiamo inteso allargare l'orizzonte all'ambito di tutte le regioni italiane. Quindi quest'anno abbiamo avuto la possibilità di mettere in mostra opere dal Piemonte, dal Veneto, dal Fiuli Venezia Giulia, dall'Abruzzo, dalla Toscana, dalla Campania, dalla Calabria, dalle Puglie. E questo ci è sembrato un modo bello intenso. Lo stesso logo, il segno della mostra, che in un unico disegno, a braccia e fonde, l'immagine dell'Italia, della stella cometa simbolo del Natale e del tricolore, vuole esprimere questo sentimento. In particolare poi abbiamo avuto la possibilità straordinaria di mettere in esposizione e alle nostre spalle quest'opera straordinaria, che credo sia il più grande presepio degli ultimi 60 anni, il presepio bianco di Napoli, inaugurato alla presenza del Papa Benedetto XVI nel 2007, che è un'opera veramente importante e che mi auguro venga visitata da tanti e tanti. Le Miglioromagne hanno la possibilità di vedere questo palazzo. Ed ora ci fermiamo per un attimo, arriva la pubblicitaria e entreremo in studio fra poco. Restate con noi. Ancora in diretta è stata inaugurata presso la Galleria d'Arte Moderna, raccolta l'Ercaro in via Rivareno 55 a Bologna, la mostra Balla Ambron, gli anni 20 tra Roma e Cotorniano, visitabile con ingresso gratuito fino al 18 marzo, da martedì a domenica, dalle 11 alle 18.30. Vediamo qualche anticipazione nel servizio di Massimo Ricci. Balla Ambron, oltre che una mostra di opere d'arte dai molteplici contenuti, è anche la storia di un'amicizia, quella fra la famiglia di Giacomo Balla e la famiglia di Emilio Ambron. Questi due grandi artisti, Emilio Ambron e Giacomo Balla, rappresentano due anime completamente diverse. L'una più rivolta allo spirito futurista, Giacomo Balla, al mondo delle parole libere, delle espressioni dinamiche, al mondo rivolto al superamento degli schemi e delle regole. L'altro, al contrario, è più rivolto al mondo del classico, alla ricerca della bellezza e alla ricerca di un mondo in cui l'uomo possa ritrovare alcuni valori fondamentali della tradizione. Due mondi completamente diversi, ma che convivono all'interno di una grande amicizia. Un messaggio di grande cultura e proprio di cultura, così come era il cenacolo Balla Ambron a Cotorniano, credo che il mondo di oggi ne abbia un grande bisogno. Ma dicevamo, la mostra presenta diversi piani di lettura, come evidenzia il presidente della fondazione Lercaro, Monsignore Ernesto Vecchi. La realtà di Ambron ha scoperto nella bellezza il punto termine dell'arte. Quindi lo stesso Balla è uscito dal futurismo, si è incontrato con Ambron e contemplando questi nudi femminili, ma in senso non erotico, ma in senso artistico, hanno scoperto la bellezza della donna. Se pensiamo che nell'Avvento il segno della donna, che è Maria, ci porta proprio a scoprire il senso del tempo, quindi non più lineare, ma circolare, ogni anno liturgico è un cerchio della spirale che ci porta in alto, noi vediamo che questa mostra diventa interessante perché mette a disposizione un frammento del cortile dei gentili per trovare quella espressione di salvezza attraverso la bellezza di cui parlava anche Dostoevsky. È stato acceso ieri sera l'albero del dono, un albero di Natale, simbolo di tutte le realtà di volontariato sul territorio. E' andato per noi Massimo Ricci. Rullo di tamburi per l'accensione in piazza dei Celestini a Bologna dell'albero del dono, iniziativa di alcune associazioni del territorio in occasione dell'anno europeo dedicato al volontariato. Hanno aderito anche altri comuni della provincia che nelle loro piazze e con le loro associazioni hanno acceso i loro alberi. Il tutto è stato coordinato dal Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna. Noi da anni abbiamo queste iniziative per la diffusione della cultura del volontariato e della solidarietà che si chiama Volontà Associate e che facciamo un po' in tutti i comuni della provincia. Quest'anno erano 13 comuni, oltre a Bologna, alcuni quartieri di Bologna. Quest'anno abbiamo deciso di provare a ampliare questo percorso e quindi su due quartieri e su quattro comuni della provincia viene messo su questo albero che raccoglie, intanto ha questa idea di raccogli e mettere in rete le associazioni che è uno dei punti fondamentali che noi cerchiamo da sempre di portare avanti. E poi ovviamente il Natale, il simbolo ovviamente del dono, il simbolo della capacità di donarsi agli altri e quindi questo meccanismo di cui questo albero rappresenta un po' il simbolo, insomma, evidentemente. Ancora pubblicità, poi rientreremo in studio. E c'è tempo soltanto per il riepilogo, per il leader Udc, Pier Ferdinando Casini. L'uscita dalla consulta della famiglia, del comune, delle associazioni cattoliche a Bologna è un fatto triste di cui il sindaco dovrebbe preoccuparsi. La manovra Monti, dolorosa ma necessaria, questa l'opinione di Casini. Tenere alta la guardia non basta più contro le infiltrazioni mafiose. In Emilia Romagna serve uno scatto in avanti delle istituzioni e un atteggiamento nuovo. Corriamo il rischio di essere colonizzati dalla malavita organizzata. Si è intensificata la lotta della polizia contro le infiltrazioni mafiosi sempre più preoccupanti anche nel territorio emiliano-romagnolo. Nell'ultimo anno sgominate organizzazioni importanti, bilancio positivo della polizia. In dieci hanno tentato la fuga dal centro identificazione ed espulsione immigrati di Via Mattei a Bologna. Quattro ci sono riusciti all'ennesimo episodio per bloccare i fuggiti in via e è intervenuto anche l'esercito. Inaugurata questa mattina la mostra dei presepi a Palazzo Caprara, sede della Prefettura di Bologna, la presenza del Cardinale Carlo Caffarra, in esposizione rappresentazioni della natività provenienti da tutta Italia. E si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.